si vuole sbagliare ad occhio questa ciotola ma qua ci sono porte no, a metrizzolano, non uscio ma qua c'è una pista ma non fatti non una pista ma proprio, ci vuole ma è quelli di questa la migliapola la maglia la gomme del tetto si la migliapola la gomme del tetto Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè, vabbè! Non c'è, vabbè! Non c'è, vabbè! Ok! Cosa c'è la pasta d'acqua? Fai...la fatta un po', eh! Da dove c'è la pasta d'acqua? Sì! Cosa c'è arrivata a andare? Ah, la scelta da sopra! Cosa c'è? Così almeno la facciamo compatta! Ma che già? Io ho pensato domenica, però ti scadono! Domenica manca... Sì, ma là, fino a dove arriviamo? No, no, no! No, no, no! E poi saliamo con la scala! No, no! Io faccio faccare la scala! Ah! 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 Vieni, non c'è un po' di niente! Tira, l'andò! Fai...la fatta, hai capito? Adesso! Tu, tira la cocca! Poi la passo io con questa e l'ale! Sì, ma la passate anche qua qui! No, eh... Sì, ma c'è di qua e qua diventi qua! Ah, qua! Ah! Ah! Ma questo non c'è la... Ah! 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 C'è ma qua! Cosa? La... Come ta? Cosa? Ah! ubsanfluo.... è la protezione civile, è buono se ne voglio che fanno i carriere per noi per sotto, per sopra, per qui grazie facciamo